pronto milano qui genova dita cirulla chi parla c'ha le vociascio canasta stamattina ho ricevuto il suo telegramma dove c'ha mi dice che c'ha le arresto senza baccalà mi dispiace tanto ma per il momento dobbiamo soprassedere c'ha non l'ha letto i giornali di stamattina colossale incendio nel porto di genova sono totalmente rovinato cavo c'ha se tratta che stanotte mi pigiò fuoco tutte e bale che le anticapanno in 1500 di cotone 1000 di baccalà e 600 di stuccafice un vero disastro addio bale chi l'ha vista l'ha vista trent'anni di lavoro sfumati in una notte sì sì il guardiano c'era ma lo sa com'è una giornata calda e quando le cuscicado generalmente o sa dorme in mese bale a gianetta ben che l'hanno tirato fuori i pompieri del sute bale mese aspiccio la colpa ma la colpa non è di nessuno deve essere stato un cortocircuito e no purtroppo non sono assicurato e chi le che ma segui è bale del transito specialmente sulle baccalosti che fisce ogni 15 giorni in darsena cangemo bale short e vege e in tre nove ma è naturale il cliente ha il diritto di avere le bale sempre fresche è una consuetudine della piazza di genova quella del oggi è bale e questo lo sanno anche in norvegia sono anni che i norvegini ogni due settimane arrivano carichi le bale come ciò dice e non ciò si sbaglia a sena non è mai arrivò un norvegino e balenquerta come ciò dice buccia sono tutte drenti in tastiva eh una parola riprendersi ciò pensa che corremi su tutto ufficio scafali scrivania e carreghe lo crede su un chi che telefono a se tonce una balla spettacolo mai visto tutta calada alle fine le gente che passeggiano in c'è e bale quelle dei coutum sono bruciate tutte e quelle altre una parte se sono rinsenie e una parte su un gonfie questa è l'apocalisse delle balle che ho vuscia quelle che sono andate in mare oramai le considero perdute perché s'aspetti in barcaio come ti esce una balla su un ben pigio alle cuscica usciù canasta purtroppo cose ciò dice ma ciò vuoi scherzare ma non ne parliamo manco vuole che mi metto a vendere al minuto per principio la ditta ci rulla non ha mai venduto baccalà e sto che fisse sciolto e non lo farà mai e ci mancherebbe altro chissata che mi rompi e bale non a finiremo ci e ti saluto guadagno concludendo c'è stata che senti dopo quello che le è successo può baccalà fermo cusci invece le 15 balle per oggi ne mando due che me lo fate presto piuttosto prenda nota e non dimentichi che per tutto questo mese mi sono senza balle signoria sciolto canasta grazie a tutti